Musica Proseguiamo il nostro viaggio per conoscere i produttori che sono qui al quinto mercato della terra della biodiversità, produttori che vengono qui per la prima volta. Buongiorno, sono Maurizio Giordano, sono un produttore dell'aglio e niente. L'aglio di caraglio? L'aglio di caraglio, sì. Facciamo l'aglio nero, abbiamo i nostri preparati, è un bel mercato, speriamo che continui la bella giornata. Aglio che viene utilizzato per insaporire i piatti? Certo, si usa dappertutto, poi l'aglio nero è un antibiotico naturale, ha tutte le proprietà, è un prodotto che sta funzionando bene, si vedrà. L'aglio nero forse è meno conosciuto, viene utilizzato maggiormente per? Viene usato come l'altro, ha tutte le proprietà, adesso stanno usando molto gli Chef Stellati, è un prodotto di nicchia che adesso sta andando bene. Poi anche CNAM adesso, che è il più famoso pastore di settimana, l'ha fatto per il festival di Sanremo con i cioccolatini, tutto è una buona pubblicità per noi e si va, si prova. Quindi venite qui a San Giorgio Canavese? Per promuovere i nostri prodotti. Tutto il giorno qui, l'aglio di Caraglio. Per promuovere i nostri prodotti.